Mantenere vivi contatti con tutti i piemontesi e i loro discendenti che vivono all'estero. E questo l'impegno di una vita per Michele Colombino, presidente dell'Associazione dei Piemontesi nel mondo, insignito del sigillo della Regione Piemonte, la più importante onerificenza regionale riconosciuta a coloro che si sono distinti per attività professionale, volontarie o benefiche. La cerimonia di consegna del sigillo si è svolta venerdì 21 maggio nell'aula di Palazzo Lascaris. Il riconoscimento era stato deciso nel novembre scorso con una mozione avanzata dall'assessore regionale all'immigrazione Maurizio Marrone e sottoscritta da tutte le forze politiche approvata alla unanimità dal Consiglio regionale. Tutti i piemontesi nati e che vivono in Piemonte hanno un parente che sono immigrati in oltreoceano 100-150 anni fa. Ci deve essere un incongiungimento fisico ma anche spirituale e culturale. Questo è il nostro intendimento con l'onerificenza che abbiamo dato oggi a Colombino. Nata nel 1981, l'Associazione dei Piemontesi nel mondo custodisce e tramanda il fondamentale contributo che il Piemonte ha dato e continua a dare all'immigrazione italiana dagli Stati Uniti all'Australia senza dimenticare il continente sudamericano, dove oggi sono più di 4 milioni discendenti di emigranti piemontesi. L'attività di Michele Colombino, che ha voluto il Museo regionale dell'immigrazione di Frossasco e il Monumento ai Piemontesi nel mondo di San Pietro Vallemina, ha contribuito a far conoscere il concetto di piemontesità diffusa, intesa come volontà e sacrificio di chi un tempo lasciava la propria terra e oggi come attività di scambio culturale e imprenditoriale. E' certo che l'immigrazione è costata moltissimo per tanti e tanti e tanti uomini e tante donne. Pensiamo anche al sacrificio di nostri migranti che si trasferivano con le navi, quindi cercavano qualsiasi modo pur di raggiungere una finalità. La volontà e soprattutto la dignità di essere uomini o donne civili. Alcuni momenti della lunga storia dell'immigrazione piemontese sono esposti nella mostra Monumenti e Radici Piemontesi nel mondo, allestita fino al 18 giugno nelle vetrine dell'URPA del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale a Torino. I pannelli fanno parte di una più ampia rassegna curata dall'Associazione Piemontesi nel mondo nel 2019, in occasione del 45esimo anniversario dell'inaugurazione del Monumento ai Piemontesi nel mondo a San Pietro Vallemina. Grazie.